ciao a tutti oggi vediamo come può nascere un arrangiamento utilizzando due macchine qui presenti un pc e un mac e mac 21 pollici pc con della project lead questo è un brano in tre parti con basso batteria e varie chitarre come abbiamo realizzato il tutto allora la batteria è stata fatta con garage band come potete vedere e sentire l'abbiamo riportata su pc questo è il risultato ok questa è la traccia di batteria poi abbiamo registrato varie chitarre come abbiamo fatto ad editarle le ho registrate in diretta e sono state editate con prevalentemente con guitar rig per cui questo è un primo esempio anzi partiamo dal basso il basso è stato registrato completamente in diretta ok poi abbiamo una prima chitarra come vedete è stata registrata prima in diretta senza effetti poi abbiamo applicato guitar rig per l'editing il risultato finale è il seguente ok ciao a tutti alla prossima